tre cose, sì sto facendo tre con questa mano anche se ho il guantone, che i tuoi figli avrebbero voluto dirti e forse non ti hanno mai detto a me lo dicono spesso come psicologa e psicoterapeuta in particolare in questo video parliamo di quanto fa schifo essere piccoli certe volte e del perché a volte fare pugni o prendersi dei pugni, metaforicamente e chiaramente, può essere necessario ma perché tutto questo? per scoprirlo vai avanti nel video e nel podcast del lunedì e quindi cominciamo ciao, sono la psicologa Silvia, in questi video e in questi podcast ti aiuto a star meglio con i tuoi bambini e con i tuoi ragazzi e in particolare oggi voglio aprirti le porte, diciamo così, di quello che io quotidianamente ascolto da loro perché è una mediazione molto importante, io ascolto dalla loro viva voce che cosa vorrebbero loro da noi genitori ascolto naturalmente dai genitori quali sono le loro difficoltà e voglio provare a mettere insieme le due cose e la prima cosa che voglio dirti è questa essere piccoli certe volte fa schifo quindi a volte i bambini non riescono a spiegare a noi adulti che soprattutto per alcuni che hanno un temperamento individuale particolare quindi un po' assertivo con magari la rabbia tra le emozioni prevalenti con anche delle buone spinte alla conoscenza, alla leadership essere piccoli ed essere così fa abbastanza schifo perché immaginate il mondo di un bambino tutti ti prendono, ti spostano, ti portano, ti dicono cosa devi fare tu hai le tue cose in mente, vorresti organizzarti a tuo modo e invece arrivi a scuola e devi fare il circle time andare a mettere le cose di che giorno è il tempo meteorologico, l'appello poi devi andare a fare merenda in un certo momento e cantare quella canzone poi tutti quanti vanno in bagno è difficile ma non perché cercate di capirmi non sto dicendo oddio ai bambini poverini sono in miniera eccetera chiaramente sono dei contesti tutti i contesti, la casa, la scuola adatti a loro ma per una mente libera diciamo così avere tutto strutturato è faticoso allora a volte cosa succede? che noi sottovalutiamo questo aspetto e ci arrabbiamo e ci nervosiamo perché il bambino magari non entra o manifesta protesta per entrare in quel binario cosa possiamo fare? cosa mi dicono i bambini già da una certa età e i ragazzini più grandi? hanno bisogno di essere non solo ascoltati questo lo dice Matteo Lancini in un bellissimo TED ma anche sentiti cioè identifichiamoci un po' con loro il video nasce proprio da questo, il video di questo lunedì cioè dall'esigenza di non essere soltanto coloro che ascoltano per trovare una soluzione perché noi spesso ascoltiamo i figli per poi ribattere convincerli che quella cosa è la cosa migliore eccetera invece loro hanno molto bisogno che noi li sentiamo nel senso ci mettiamo nei loro panni è proprio l'empatia nel senso etimologico non solo una comprensione intellettuale capite la differenza tra intelligenza emotiva ed empatia questo lo approfondiremo di là nel taschino nel pezzo di conferenza diciamo di incontro che avviene sempre dopo il video di lunedì e che avviene nel gruppo riservato la psicologa nel taschino se non sai che cos'è vai a vedere in descrizione quindi è differente avere intelligenza emotiva ad avere empatia io posso comprendere perché sto ascoltando come si sente un figlio di fronte a oddio esco da scuola sono stato otto ore seduto al banco adesso vado alla lezione di judo e il maestro non mi fa correre come io vorrei ma devo stare in fila fare gli esercizi e allora magari non è che non mi piaccia il judo ma mi viene da dire no non ci voglio andare questo è un esempio e faccio fatica a sentire veramente quella cosa l'empatia è mettersi nei panni il che vuol dire allora lo tolgo dalla lezione di judo no però se mi identifico veramente gli posso dire è pesante vero dopo tante ore che hai come dire sei stato comandato andare in un posto dove di nuovo sentirai altri comandi però poi starei bene ti piacerà eccetera eccetera quindi prima cosa che i figli vorrebbero dirci e che a volte non ci dicono essere piccoli è un po' pesante se vuoi fare le cose a modo tuo perché devi sempre farle a modo di altri e questa cosa non è semplice se proviamo a identificarci con loro è non solo ad ascoltare ma proprio a metterci nei loro panni la seconda cosa che ti voglio dire che loro raccontano a me e io oggi trasferisco a te è questa quindi la prima frase abbiamo detto essere piccoli fa schifo la seconda è non sono male anche se non sono te cioè a volte noi genitori ci preoccupiamo e ci allarmiamo quando vediamo i figli diversi da come siamo noi è un fenomeno un po' strano io a volte lo descrivo così la genitorialità è l'unico ambito agronomico dove il seme e l'albero che cresce è diverso dal frutto che ha si dice la mela non cade lontano dall'albero ma in realtà quello che accade a volte è che noi ci aspettiamo che cresca un determinato tipo di albero e invece ne nasce un altro che sicuramente ha anche delle caratteristiche dell'albero da cui proviene quell'alberello ma neanche di sue personali quindi attenzione anche se i figli magari non sono la stessa cosa che pensavamo noi non è detto che siano male ok? hanno i loro talenti le loro potenzialità a volte noi guardiamo lassù per cercare di farli diventare qualcosa che vogliamo o molto più spesso per paura che diventino qualcosa che nella nostra fantasia va male senza fidarci delle potenzialità vai a vedere il video sulla fiducia del fatto che magari vogliono vorranno o percorreranno strade differenti ma sarà ok saranno delle brave persone saranno felici in gamba nei loro ambiti anche se non saranno magari quelli che ci aspettavamo noi e qui arrivo alla terza affermazione che è molto importante perché poi ti dico ancora una cosa alla fine che racchiude un po' tutto e per la quale ho iniziato con i guantoni nelle mani se stai ascoltando il podcast e non guardando il video ho indossato dei guanti da box diciamo così lasciami esprimere la mia aggressività quanta paura abbiamo in questo momento storico dell'aggressività cioè vogliamo fare i genitori ma vogliamo farlo in modo civile ok ottimo va bene non sto dicendo bisogna fare i genitori in modo aggressivo però io a volte vedo veramente non lasciare neanche l'espressione della protesta mettere tutto sotto un piano educativo cioè è importante e qui arriva a tutte e tre le affermazioni queste cose i ragazzini i bambini le dicono a me in virtù di psicoterapeuta ma dovrebbero poterle dire anche a voi sarebbe proprio importante che potessero dirvi fa schifo essere piccolo senza che voi dobbiate rispondere però devi capire ti capisco che è eccetera ma che possiate dire ok hai ragione o comunque lasciare uno spazio per l'espressione quando un adolescente ti dice ma che cavolo dici non posso dire la parolaccia ma forse è importante che la dicano la parolaccia noi ci preoccupiamo del fatto educativo ma come dice la parolaccia ma non l'ho mai detta fuori fuori è un dandy che si comporta benissimo e tutti dicono oh mamma mia quanto è educato ma in casa almeno qui almeno con noi cioè noi dovremmo essere come adulti è un po' il pungible forse sono partita col guantone ma forse la cosa che dovevo mettere nel video veramente è il pungible non vuol dire facciamoci sempre solo trattare male ma vuol dire non abbiamo neanche così paura delle parti aggressive se esce un po' quella parte esce in un contesto protetto almeno in casa in casa ci togliamo no? le ciabatte ci mettiamo in mutande allora anche dal punto di vista dell'energia e dell'aggressività possiamo lasciarla uscire in un modo accettabile chiaramente non lascerò mai che un figlio si faccia del male faccia del male a qualcuno o rompe e rovini gli oggetti ma se esce un po' di proteste un po' di carattere non stiamo subito a spegnerla a soffocarla con un lato educativo la mancanza di rispetto dobbiamo parlarci in un altro modo queste cose qua soprattutto in una certa età fanno sì che poi loro si chiudano e non non usino più noi come riferimento un genitore che ha paura o che tratta così in modo anche a volte ci viene da fare delle cose troppo formali no? delle parti aggressive è come se avessimo proprio tutti quanti paura di un conflitto di attraversare anche un po' il conflitto a volte i ragazzini mi dicono io vorrei poter dire questa cosa a mia madre che lei mi rispondesse anche ma vai a quel paese ma anche con parole più forti ma sento di non potere perché sarebbe delusa da me ecco perché ci sentiamo delusi se i ragazzini esprimono in casa quindi in un ambiente protetto e con noi che siamo le figure più importanti per loro anche le loro parti vehementi aggressive che vogliono che vogliono in qualche modo anche emergere e autodeterminarsi a volte veramente l'aggressività anche solo sotto forma di conflitto ripeto accettabile non è un invito a dire ok facciamo tutto quello che vogliamo e parliamo solo con le parolacce ma io vedo correggere i ragazzini non sono quella puntini puntini della professoressa lasciamoglielo dire lasciamogli dire anche la brutta parola è un momento in cui proprio il fatto di dirlo a parole eviterà che facciano delle brutte cose poi veramente alla suddetta prof invece anziché concentrarci sul assorbire un po' quel colpo però non si dice così della professoressa usa delle parole più educate viene da urlare ma se a voi quando vi sfogate qualcuno vi dicesse però potresti anche dirlo in un modo più educato la rabbia vi salirebbe a mille quindi riepilogando intanto importante sarebbe importante che i figli potessero dirle anche a noi genitori queste cose e che cosa che a volte essere piccoli fa schifo perché tutti ti dicono cosa devi fare ed è faticoso che possiamo diventare possono diventare cose buone ed essere ok anche se non assomigliano a noi in tutto quindi fidati di me vorrebbero dirci sono una cosa abbastanza buona anche se non sono quella che pensavi e terzo non ti spaventare anche delle mie parti un po' cariche che hanno bisogno di uno spazio sicuro di un porto sicuro per essere anche depositate tirate fuori bonificate e poi pian piano elaborate se vogliamo poi parlare di aspetti educativi facciamolo torniamo indietro ma aspettiamo che sia quando è passata quell'attivazione che ne pensate di queste tre frasi vorreste sentirne altre naturalmente adesso la discussione si sposta di là nel taschino se non sai che cos'è vai a vedere il link in descrizione con le persone che approfondiscono il video del lunedì con me in un piccolo gruppo e noi ci vediamo e ci ascoltiamo il prossimo lunedì con o senza Guantoni ciao ciao